Ben trovati, il caso dell'ex sindaco Gianluca Festa, sindaco di Avellino, è la questione morale. Una cosa è certa, questo si può affermare, il terremoto giudiziario che si è abbattuto sul comune di Avellino ha chiuso una fase, non diciamo storica che sarebbe anche troppo, ma ha chiuso certamente una fase politico-amministrativa e purtroppo dobbiamo anche dire che l'immagine di Avellino ne esce devastata. Poi sul piano giudiziario si aspetteranno i processi quando cominceranno e quando finiranno, però l'inchiesta per le cose che ha portato alla luce ci può fare affermare che una fase si è assolutamente chiusa. Dobbiamo soltanto aggiungere che chi continua a parlare di inchiesta a orologeria, di magistratura a orologeria, almeno in questo caso, dice Corbellerie. L'inchiesta è stata svolta dagli atti che abbiamo potuto osservare, dagli atti del GIP, oltretutto dall'ordinanza di arresto dell'ex sindaco Festa e della dirigente smiraglia e dell'architetto guerriero. Una cosa è certa, l'inchiesta è stata svolta con grande cautela, con tanti accorgimenti, tanti approfondimenti, certamente che danno una immagine. Questo è il fatto che danno la cronaca, ecco, danno la cronaca dei fatti. Poi tutto il resto riguarda il processo, tutto il resto riguarda anche la presunzione di innocenza che va sempre riconosciuta fino al terzo grado di giudizio, come sappiamo la Costituzione lo dice. Quello che invece comincia a diventare un po' un argomento che va affrontato, va affrontato prima che degeneri, è la questione morale. Se ne sta parlando, la campagna elettorale è cominciata, si parla di questione morale ad Avellino e l'unica nota stonata, la questione morale è un argomento che dovrebbe essere ogni giorno alla portata di tutti, presenti in tutti gli atti politici. Però questo tentativo di far datare la questione morale nella città capoluogo con la vicenda giudiziaria di questi giorni è quantomeno azzardata. La verità, perché se non ci diciamo le cose fino in fondo probabilmente sbagliamo anche poi a disegnare i percorsi, io dico la rifondazione della politica amministrativa nella città di Avellino che è indispensabile, sbagliamo dai presupposti e quindi si sbaglia anche tutto il resto. La questione morale di Avellino non data con la vicenda giudiziaria di questi due mesi con il sindaco Festa. No, la questione morale di Avellino è vecchia, è vecchia e non è stata mai risolta. Dobbiamo ricordare le tangenti dell'alto calore, dobbiamo ricordare l'uso clientelare che è stato fatto per decenni dell'alto calore, dobbiamo ricordare anche l'uso clientelare che è stato fatto dalle altre società pubbliche, le altre società pubbliche di servizio, le case popolari una volta, poi lo scandalo ancora prima dei prefabbricati pesanti dopo il terremoto e l'uso clientelare che è stato fatto del CGS, quel braccio operativo dell'Asi che ha sperperato tantissimi soldi negando poi di fatto l'efficienza e l'efficacia della depurazione industriale in questa provincia e si potrebbe continuare con altre cose. Poi c'è un altro aspetto della questione morale che viene agitata e anche qui non si dice tutto fino in fondo e io voglio sottolinearlo per le ragioni cui accennavo prima, se ci diciamo tutto e si parte da dati reali possiamo fare meglio nel futuro prossimo e nel futuro remoto. la questione morale, ora ieri è arrivato un comunicato, ieri sera, un comunicato, c'è una nota di agenzia, ve la leggo, a Avellino, no questo qui è un altro, questo è un altro capitolo, è questa della commissione parlamentare antimafia, la commissione parlamentare antimafia il cui vicepresidente, ecco perché c'entra, ecco ci azzecca tutto, il cui vicepresidente è il deputato Irpino Michele Gubitosa, la notte dice la commissione parlamentare antimafia a quanto si apprende ha fatto oggi richiesta degli atti delle inchieste di Paternò, Trapani e Avellino, poi specifica a Paternò dove nei giorni scorsi ci sono stati 17 arresti, l'inchiesta riguarda un clan catanese che agiva per inquinare le aste giudiziarie, favorendo le persone individuate dal clan, a Trapani l'inchiesta che ha portato a 11 arresti riguarda il clan di Salemi, infine l'inchiesta di Avellino dove questa mattina il sindaco di missionario Gianluca Festa è stato arrestato nell'ambito di un'indagine sulla corruzione negli appalti. Ora dovremmo soltanto chiederci, quando interviene la commissione parlamentare antimafia, interviene per vedere un po' se ci sono state, ci sono impistrazioni camorristiche, insomma Avellino in questa storia almeno per ora dagli atti della procura, dagli atti del GIP non c'entra niente. Avellino come città è stata interessata da un vasto fenomeno di aste, il processo aste ok ha portato alla luce e è stato oltretutto un processo che si è concluso, questo processo almeno in primo grado con condanne davvero esemplari, però mettere insieme tutte queste cose, il fatto che in qualche modo, in qualche senso le metta insieme il vicepresidente della commissione parlamentare antimafia, Gubitosa, io la leggerei come una ingerenza della politica molto gratuita, molto paesanistica, molto localistica che non aiuta poi a capire quello che effettivamente è accaduto nell'amministrazione comunale di Avellino. Attenzione perché tutto questo ci porta fuori strada. Ancora sulla questione morale va detto che ad esempio, diciamo anche questo è importante, per carità fa bene il candidato sindaco Gengaro a riportare al centro la questione morale, fa benissimo, bisogna stare sempre molto molto attenti su tutto, però c'è un piccolo problema, c'è stato lo scioglimento, lo dico per la cronaca, lo ricordo per la cronaca, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Monteforte-Ilpino con l'ipotesi di infiltrazioni camorristiche, non sappiamo se ci siano state o meno, ma c'è stato un atto di scioglimento. Ebbene, rispetto a quella vicenda dove l'accesso agli atti, la Commissione che poi ha guardato gli atti, ha potuto far derivare alla fine l'epilogo, è stato lo scioglimento del Consiglio Comunale, insomma nessuno per la verità del Partito Democratico Ilpino ha detto mezza parola, e però poi si solleva la questione morale oggi per altre vicende, quella gravissima, due pesi e due misure, questo non va bene, diciamoci tutto fino in fondo che è meglio per tutti. E ancora, ancora, una nota che secondo me va ripetuta, l'uso che si sta facendo anche delle fughe di notizie. Ci sono fughe di notizie, purtroppo lo stesso procuratore ha dovuto riconoscere che ci sono state delle fughe di notizie e anche lì bisognerebbe intervenire perché anche quella è questione morale che investe un po' tutti. Le alleanze, la campagna elettorale, lo abbiamo detto e lo ripetiamo seppure brevemente, lo ripetiamo. La campagna elettorale di Avellino dovrebbe mirare, io credo che questo interessi soprattutto alla comunità, non la tifoseria da calcio, altro è il pallone, altro è la politica. La campagna elettorale dovrebbe concentrarsi tutta su gli errori che sono stati commessi, lo stato di grado da parte di qualche visuale, da parte di qualche opinione di parti politiche, chiedo scusa, e da un'altra parte la mancanza di sviluppo reale della città secondo altri visuali. Questi sono gli argomenti che dovrebbero essere considerati fino in fondo, io direi praticamente approfonditi fino alla noia per disegnare un progetto di sviluppo per la città di Avellino. Guai se la campagna elettorale di Avellino si impantanasse nelle vicende che sono state già sviscerate, è una parentesi che è chiusa, una fase che è chiusa, l'inchiesta giudiziaria ha chiuso, ripeto, una fase ed è importante ora pensare un attimo ad andare avanti, ma su basi nuove, con un confronto politico-amministrativo che è necessario, ma è necessario se viene fatto senza strumentalizzare, se viene fatto senza sciacallaggio, se viene fatto sulle cose concrete. Diamo la possibilità agli avellinesi, è questo che dovrebbe fare la politica, è questo che dovrebbero fare le liste che scenderanno in campo, ci saranno certamente liste civiche, c'è il campo largo, il campo progressista, un'alleanza molto molto ampia anche qui. Ecco, si parlasse delle cose concrete e non più del passato, il passato è passato, attenzione, il passato non conta più niente, per le comunità non conta più niente, servono idee nuove, serve un confronto serio. Riusciremo in questa campagna elettorale a raccontarvi le cose buone che si devono e che si possono fare per questa città, non dipenderà da noi cronisti, dipenderà esclusivamente dai protagonisti che sono i protagonisti della politica. A venerdì prossimo.